Un minuto solo per parlarvi dei miei cinque anni al liceo scientifico Ernesto Balducci. Basta la parola giusta, passione. La passione nel suo doppio significato, la passione come collante perfetto tra studenti e insegnanti, e la passione che è fatica, impegno, duro lavoro. In queste parole c'è tutto quello che mi ha permesso di resistere e di superare ogni difficoltà nel percorso. La passione è quel divampante amore che rende una lavagna e qualche banco scuola. Luogo di crescita, palestra di vita, incubatrice di sogni. Non so se e quando riuscirò a diventare un medico, ma alla Balducci ho conosciuto persone che mi hanno permesso di coronare il primo passo nel mio domani. I vostri prossimi cinque brevissimi anni passeranno in un soffio, ma vi assicuro che non cederete a nessun prezzo il tesoro grandioso che questo luogo vi potrà regalare. Studiate, fatelo con passione. Lo studio è l'infa che giovane il presente e che fortifica i rami del nostro futuro. E concludo con un grande augurio. Siate profeti di un mondo che imparerete a cambiare con le vostre mani. Grazie. Grazie.